È partita ufficialmente la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Già nelle 245 farmacie del territorio vicentino è disponibile il vaccino. Farmacie che anche quest'anno sono in prima linea nella prevenzione come parte integrante del sistema sanitario nazionale e regionale proprio grazie alla capillare presenza sul territorio che garantisce una facile reperibilità del vaccino da parte dei cittadini. Il vaccino che, sottolinea il Ministero della Salute, rimane a tutt'oggi il mezzo più efficace e sicuro per prevenire l'influenza e ridurre le complicanze. Infine, una volta acquistato, il vaccino deve essere conservato in frigorifero fino al momento della somministrazione.